Qual è il nuovo ruolo della Corte dei Conti sul moritoraggio dei contratti integrativi? La Corte dei Conti utilizzerà le informazioni che noi trasmettiamo alla ragioneria generale dello Stato nel conto annuale del personale con i seguenti scopi. La Corte dei Conti nazionale utilizzerà questi dati nell'ambito del referto che ogni anno consegna al Parlamento sul costo del lavoro pubblico. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti utilizzeranno queste informazioni nell'ambito delle proprie attività di controllo sugli enti locali. Se riscontrano elementi di illegittimità, quelle clausole contrattuali vengono sospese, l'ente deve recuperare quello che illegittimamente ha erogato e rimane ferma la responsabilità individuale dei singoli dirigenti o dei singoli amministratori.